Dopo lo splendido spettacolo che li ha visti i protagonisti nella pieve di Santa Maria, insieme alla musica corale della Vox Cordis, il mese di dicembre si chiude con altre due importanti iniziative per il gruppo Sbandieratori di Arezzo. Primo appuntamento sabato 27 dicembre alle 11 all'hotel continentale di Arezzo. Abbiamo indietro una conferenza stampa in quanto ci sarà la presentazione del nuovo filmato dell'associazione Sbandieratori che ci permetterà di essere molto più visibili nel momento in cui vogliamo partecipare delle trasfette, che mandiamo del materiale e con questo filmato penso che abbiamo raggiunto un buon livello. E nello stesso tempo presenteremo il nuovo abbigliamento dell'associazione per i ragazzi che è la nuova tuta. Abbiamo avuto uno sponsor che ci ha aiutato, la Fraternita dei Laici, quindi ringrazio pubblicamente la Letta Fornasari come primo rettore della Fraternita che ci ha dato una mano per poter realizzare l'abbigliamento. Ma questo è la mattina alle 11 all'hotel continentale. Il filmato è stato realizzato e qui lo ringrazio fortemente perché è stato fatto non nelle migliori condizioni per lui da Piero Comanducci e quindi ha voluto fortemente realizzare questo filmato e ci siamo riusciti e lo presenteremo poi a tutta l'associazione in occasione dell'annuale scena che facciamo come sempre il 28 dicembre, che capita proprio, capitava in occasione, capita in occasione della ricorrenza degli anni del dottor Mario Dovandi, del nostro fondatore. Quindi lui compiva gli anni il 28 dicembre e da 54 anni facciamo questa scena. Durante la scena ci sarà presentato quindi la tuta, sarà presentato il nuovo video, saranno fatte delle premiazioni, verranno ricordate le trasferte più importanti, verranno premiati i soci, 30, 40, 50 anni di associazione al gruppo sbandieratori, i fondatori e poi è un motivo per poter stare tutti assieme.